Qua stai tornando negli anni? Quasi agli anni di piombo. Praticamente sono nel futuro? Sì, tu sei nel 95-96. Io sono già pelato nel 95, ma anche nel 91, ho cominciato a perdere i capelli nel 85-86. Non l'hai più ritrovato? Un po' l'ho cercato e poi l'ho mandato in culo. Sei duro. Il nostro amico no pain no gain, ragazzi. No, una cosa di genere io ti manderei io. Io ti manderei io volentieri, ma. Il suo pessimismo batte quasi no pain, non no gain, capito? No pain.